Grazie Presidente. Oggi siamo un po' tutti sopraffatti dall'emozione triste per la scomparsa di Giambiero Galeazzi. Giambiero Galeazzi è stato però un profondo portatore di emozioni positive, un profondo portatore di emozioni positive, perché noi tutti lo ricorderemo per la sua grandissima professionalità, per la sua grandissima capacità di essere cronista sportivo, per le sue indubbie capacità atletiche, per le sue grandi vittorie personali nell'ambito del mondo del canottaggio. Ma perché? Che cosa rendeva veramente unico Giambiero Galeazzi? Perché tanta gente oggi è a franta per la sua scomparsa? Sicuramente per la sua unica capacità di raccontare lo sport. Lui in realtà lo sport non lo raccontava. Lui lo sport ce lo faceva vivere. Te lo faceva vivere e ti faceva vivere le vittorie dello sport. Era capace di creare un'emozione positiva in chi ascoltava, che era addirittura più forte di chi la viveva. Perché i nostri atleti, quando vivono e vingono delle competizioni, sono sopraffatti dallo sforzo fisico. Giambiero Galeazzi invece ti rendeva partecipe di quell'impresa, non ti raccontava quell'impresa. Ho sentito dire in questi giorni che lui aveva tre anime. Un'anima popolare, era quella della gente, era quella del calcio, era quella del suo grandissimo amore per la maglia della Lazio. Un'anima elegante, quasi culturale, era il suo profondo amore per il tennis, la sua capacità di raccontare il tennis. E un animo sportivo, era l'animo del canottaggio. Giambiero Galeazzi non ci ha raccontato dello sport. Giambiero Galeazzi ci ha portato su quelle canoe e ci ha fatto sentire, ci ha fatto diventare tifosi del canottaggio. Ci ha resi protagonisti di quelle vittorie degli abbagnale. Non ci raccontava il tennis, ci ha portato nei cambi da tennis, ci ha fatto vivere le emozioni della Coppa Davis. Allora questa sua grandissima capacità di rendere uniche queste emozioni, non la capacità di fare il cronista di raccontare, ma la capacità di generare emozioni positive in chi ascoltava, la capacità di accumunare tutti in un unico grande sentimento positivo di vittoria, questo era Giambiero Galeazzi. E se è vero che la capacità di regalare emozioni è un dono, noi dobbiamo essere tutti in quest'Aula e fuori in Italia profondamente grati a quell'omone che con questa sua sensibilità e questa sua capacità ci ha fatto emozionare tutti. Ci mancherà il bistecone. Andiamo a vincere, come dicevi tu. Un abbraccio.